Villa Artemis, ristorante, park, hotel tre stelle L'albergo-ristorante Monte Artemisio è circondato da boschi e sorge su un lussureggiante altopiano nel cuore del parco dei Castelli Romani A soli 20 km dalla capitale, offre un clima di alta collina, ideale per tutte le età Il complesso è nuovo e dotato di tutti i comfort L'albergo dispone di 35 camere con bagno, tv color e due stanze per portatori di handicap Offre sale di varia grandezza, ideale per convegni ed è dotato di ascensore, sala tv, bar e discoteca Le serate sono alietate con bella musica e canzoni dal vivo, alternate a serate danzanti anche all'aperto Nelle sale ristorante, che ospitano fino a 100 a 250 persone, si possono gustare varie specialità romane e castellane e piatti caratteristici a base di pesce Di sera si può provare una deliziosa pizza cotta nel forno a legna Si organizzano banchetti e pranzi di nozze Grazie per la visione!